All'antistadio Valle Anzuga di Francavilla, per il trentesimo turno d'eccellenza, scendono in campo Villa 2015 e Pontevomano. I biancorossi locali, retrocessi matematicamente nello scorso weekend, imbottiti dai ragazzi, cercano di onorare il campionato. Gli ospiti, reduci dalla sconfitta interna contro il Lanciano, recuperano Gava tra i pali e soprattutto Bomber Polisena al centro dell'attacco, autore già di 16 gol in questa stagione. E gara vera solo per 10 minuti, infatti dopo una prima fase di studio il Pontevomano passa in vantaggio. Berardinelli a terra Polisena e l'arbitro del signor Battistini di Lanciano decreda la massima punizione che lo stesso attaccante realizza in maniera impeccabile. Al diciannovesimo Valentino Cernaz raccoglie un assist fornito da Tourette e dal lato corto dell'area fa partire un tiro che si insacca sotto la traversa. Qui finisce la gara del Viglia perché dopo è solo monologo Pontevomano. Il tris arriva al trentaduesimo con Polisena che ha il volo di destro su una sponda aerea di Tourette. Al minuto 38 Polisena continua il suo show personale, anticipa di testa Gian Giacomo in uscita e deposita la palla in fondo al sacco. Al quarantaduesimo arriva la gioia personale per Tourette che sfrutta un assist di Polisena e fa 5 a 0. Ma prima dell'intervallo c'è anche il tempo per il 6 a 0. Questa volta è Leonzi a timbrare il cartellino raccogliendo un pallone vacante in area. Con le immagini di Simone Luciani andiamo nella ripresa. Il tempo per Polisena per mettere a segno la rete in numero 20 e 21 in campionato. La prima al decimo sfruttando un perfetto assist di Porrini. E il pocherissimo al quattordicesimo scattando sul filo dell'offside salta il portiere e fa 8 a 0. Poi non succede più nulla fino al triplice fischio. Troppo Pontevomano per i pur volenterosi ragazzi di Mister Vitale. Tre punti che profumano di salvezza per la truppa di Mister Piccioni. Il finale da Francavilla è Villa 2015 0 Pontevomano 8. Forse è una delle pagine più brutte di questa società che nasce 7 anni fa. Però non possiamo recriminare perché comunque è una retrocessione che già era annunciata da tempo. Domenica scorsa c'è stata la matematica però a questi ragazzi non li si può rimproverare nulla perché hanno onorato il campionato. Poi oggi avevano delle pedine importanti che fanno girare la squadra che erano squalificati. Quindi abbiamo giocato con ragazzini in campo e ci sta che possono accadere questi risultati. Non dovrebbero succedere però alla fine non possiamo rimproverarci nulla. Anzi va dato merito a questi ragazzi che hanno onorato il campionato domenica dopo domenica. Non era manco facile in una posizione di classifica che era la nostra. Però alla fine va un ringraziamento a tutti quanti. Non ci possiamo diciamo rammaricare di nulla. Oggi l'importante era prendere i tre punti. Abbiamo bruciato bene la gara. Il risultato probabilmente è stato fin troppo pesante per i ragazzi del Villa. Adesso secondo me mancano ancora dei punti per salvarci. Vedremo domenica contro l'Aquila di portare a casa un risultato positivo.